lunedì 12 luglio 2021 buongiorno benvenuti cari telespettatori questa è fano tv canale 17 la segna stampa occhi giornali come tutte le mattine precisi alle 7 in diretta allora iniziamo con il dar uno sguardo il santo del giorno poi vediamo le previsioni del tempo ci sono delle novità importanti allora oggi sono i santi fortunato e ermagora poi il sole è sorto alle 5 35 tremonterà alle 20 55 dicevamo della novità secondo trebimeteo.com questa mattina il titolo vedete crisi dell'estate crisi dell'estate nella nuova settimana quella che stiamo iniziando oggi prevedono questa crisi prevede temporali nubi fragi e anche il calo delle temperature dunque stop il caldo africano fino a 8 10 gradi in meno e diciamo che a dare un'occhiata velocemente all'italia oggi vedete a mezzogiorno questo è un po anche per la nostra regione parte qualche temporale sulle alpi per il resto niente di che ma già domani eccola la perturbazione che interesserà il nord italia ma anche la nostra la nostra provincia peso urbino con queste questo sole e nuvole queste mezzogiorno con dei temporali ancora sparsi sulla provincia di peso urbino poi il tempo peggiora nel centro italia e torna a migliorare diciamo nella serata il 14 di luglio ancora un po di perturbazioni ma che dovrebbero lambire la nostra la nostra regione ma di questo poi entreremo nel dettaglio nella giornata di domani adesso invece apriamo questa nuova settimana con un nuovo collegamento andiamo a torrette di fano ai bagni azzurra dove c'è per noi cristiano boni buongiorno cristiano ciao a tutti buongiorno buon lunedì allora agli occhiali da sole non tanto per il sole ma perché ci sono gli occhiali sotto immagino perché hai fatto tardi ieri sera per l'occhiale da vista allora si abbiamo fatto tardi allora naturalmente anche tu sei tra quelli che ha seguito ieri la partita ha vinto l'italia quindi grande gioia per tutti insomma ci sono stati festeggiamenti da quelle parti lì allora qua è una zona molto più tranquilla che ne affano io oltretutto poi sono di fano e c'è molta meno gente la sera hanno festeggiato un po nelle strade ma nelle spiagge è andata tutto bene non c'è stato nessun problema allora bagni azzurra tu sei il titolare di questa spiaggia bagni azzurra quanti ombrelloni così capiamo un po ombrelloni lettini quanto le spiagge che ci sono qua sono un po più piccoline a livello di comunque di ombrelloni perché comunque ne abbiamo solo 230 però ci sono molto più distanze tra una fine l'altra ci sono sei metri è un'altra tipologia rispetto a fano quindi sono abbastanza larghi sono stanno comodi diciamo allora invece il problema delle alghe lo vedremo tra poco sui giornali prima delle alghe è stato risolto perché vedo che è tutta bella linda pulita questa spiaggia stamattina è appena passato il trattore dell'aset quindi si hanno fatto un bel lavoro hanno pulito poi come vedete qua alla mattina c'è un sacco di secca c'è una bassa maria le alghe si proprio appoggiano alla spiaggia e quindi c'è bisogno si e poi anche più facile ripulire vedo che c'è una pista tra l'altro dietro le tue spalle una pista per le biglie che insomma ci fa ritornare tutti i bambini si sono divertiti poi da noi un po una prerogativa avete messo anche nella pagina di facebook sono molto contento la foto di qualche anno fa dove tutti gli anni facciamo un castello gigantesco per far vedere poi alle persone quello che è un'arte grazie al ragazzo che le viene a fare e qualcuno ha fatto anche il televisore di sabbia con fano tv bene bravissimo grazie cristiano intanto buona giornata buon lavoro ci vediamo domani mattina come sempre anche a voi buon inizio settimana a tutti grazie allora delirio azzurro il titolo del carlino oggi esce in edizione regionale quindi l'edizione delle marche questa è la prima pagina festa nelle città per l'italia campione campione d'europa poi incubo covid ridatici i nostri figli le famiglie dei ragazzi marchigiani bloccati a malta le autorità concedano l'intervento dei medici italiani questo invece il corriere adriatico edizione di pesero grande italia siamo campioni d'europa gli azzurri battono ai rigori l'inghilterra la viabilità stravolta a pesero e a rischio gli albergatori tornano alla carica contro l'isola pedonale favorisce gli assembramenti e i caos proteste anche per i cantieri sul cavalcavia e in piazzale cinelli i quartieri e i residenti sono in rivolta contagi su ora le marche rischiano la zona gialla sotto una notte di furti i ladri colpiscono anche da germano siamo a pesero protezione civile nel caos gambini scrive ai volontari e poi acqualagna riserva del furlo compie 20 anni un mese di festa allarme movida al lido rischio picco contagio assembramenti al mare il primario farusini dice giovani veicoli giovani veicoli inconsapevoli delle varianti e poi sullo smart working per il comune porta aggravio nei controlli siamo sempre a farlo andiamo adesso nella pagina dedicata all'epidemia zona bianca in bilico aumentano i contagi tra focolai e varianti le marche sono osservate speciali assieme a sicilia campagna abruzzo negli ospedali la situazione sotto controllo 10 pazienti soltanto due in rianimazione maria teresa bianciardi dice scrive serve essere prudenti e non allarmisti soprattutto perché nonostante l'aumento dei contagi nelle marche anche ieri ci sono stati 39 positivi su 1109 nuove diagnosi gli ospedali ancora sono praticamente vuoti con 10 pazienti covid ricoverati ma nessuno in semi intensiva e due degenti in rianimazione marche nord i timori però le preoccupazioni a preoccupare sono anche i focolai che si sono sviluppati nella scolano dopo la festa in spiaggia a san benedetto adesso c'è il matrimonio di acqua santa che ha costretto l'asur ad intervenire accelerando sul tracciamento una situazione che deve essere tenuta estremamente sotto controllo non tanto perché dalla zona bianca la zona gialla tecnicamente cambi molto infatti si riduce solo il numero di persone a tavola nei ristoranti che torna a quattro ma è fondamentale non compromettere l'autunno e l'avvio del nuovo anno scolastico in un covid hotel di malta ci sono pure nove studenti marchigiani situazione sotto controllo la scuola anno de angelis di giocamondo dice ci sono 80 in quarantena 21 sono positivi tra gli studenti italiani in quarantena a malta a causa della crescita dei contagi covid sull'isola ci sono anche nove ragazzi marchigiani due risiedono in provincia di ascoli piceno e gli altri sono della provincia di ancona poi c'è un altro cluster un altro focolaio in un matrimonio matrimonio con virus i contagiati aumentano acqua santa sono due bimbi e una educatrice di asilo lab di montecchio siamo in provincia di peso urbino si prepara mercoledì tornata bis di vaccini lo scorso 7 luglio somministrate 31 dosi la direttrice sposto dice la casa di cura è una struttura ideale sotto invece conto alla rovescia per il yellow park di valentino rossi apertura forse in agosto nell'area verde antistante il fan club del campione è un parco a tema dedicato proprio a valentino rossi che aprirà i battenti al pubblico all'interno di questo yellow park è stata prevista una pista che percorre tutta la lunghezza del parco con giochi richiami aneddoti e immagini alla carriera di valentino rossi valentino rossi che lo ricordiamo in questo momento è sullo yacht in croazia con la finanzata e insomma giustamente se la sta spassando e sta passando qualche giorno spensierato ritorna la febbre del sabato sera sembrati fuori controllo al lido siamo nella spiaggia di fano il primario dell'ospedale di fano frausini dice così si rischia però il 60 per cento in più di contagio i giovani sono veicoli inconsapevoli delle varianti poi come dicevamo vedete questa fotografia spiagge stile wimbledon un fenomeno naturale la spiaggia di fano ieri era verdissima bagnini frequentatori domenica mattina si sono ritrovati all'arenile sepolto da queste aighe verdi è accaduto un po su tutto il litorale ma la concentrazione maggiore si è registrata a torrette ponte sasso e arzilla gli operatori interpellati hanno risposto tutti quanti all'unisono si tratta di un fenomeno naturale dovuto al recente maremosso tra l'altro con intensità a macchia di leopardo prende fuoco dal mare all'entroterra siamo ad abbadia di naro vicino a monte nero da quelle parti prende fuoco un campo d'orzo in fumo 4 ettari paura per le fiamme che si stavano avvicinando anche ad un focolare i vigili del fuoco sono però riusciti a spegnere l'incendio dopo ore a baia flaminia invece ora l'assalto è a posti blu quelli che hanno cercato alternative nelle strade vicine alla spiaggia come via guareschi sono stati però multati caos anche anche lungo la statale adriatica i ladri nella notte invece a pesaro sono andati a far visita anche alla gelateria da germano sono stati rubati 100 euro malviventi anche nel negozio di abbigliamento lugli lungo il corso ma non hanno preso praticamente nulla questa invece è la pagina 8 del corriere adriatico la viabilità stravolta musiche schiamazzi così non si sopravvive gli albergatori alzano il tiro dopo le accuse ai bagnini se la prendono con i gestori dei locali e governare i ragazzi è praticamente impossibile governarli poi figuriamoci in queste serate così queste notte magiche in queste notte magiche sia chiaro quindi governare la movida è impossibile a meno che non si schieri l'esercito e questo sarebbe tutt'altro che auspicabile il lavoro invece sul cavalca ferrovia sempre a pesaro doccia fredda dell'assessore belloni si procede a stralci impossibile dire quando termineranno poi a piazzale cinelli si intravede la pista ciclabile ma è transennata quindi si parla di lavori pubblici in questa pagina del corriere a ubino invece gambini il sindaco dai compiti per le vacanze quello più importante sicuramente da non mancare è il rilancio della protezione civile urbinate dopo il caos di missioni lettera del sindaco agli iscritti dopo l'estate ci sarà un confronto aperto porteremo avanti il percorso e rivedremo competenze e ruoli il coordinatore dovrà essere un leader e poi t-rex grandezza naturale museo dei riciclosauri l'opera del fanese giomaro esposta per la riapertura al furlo di acqualagno un gigantesco dinosauro dimensioni naturali tari dimezzata mondolfo per attività e per le famiglie in difficoltà il comune investe 231 mila euro per coprire l'altra metà dei costi dei costi della tariffa alla spiaggia di marotta la bandiera dei pediatri l'assessore caporraletti dice un premio prestigioso sotto preso il pirata della strada sempre a mondolfo è un neopatentato un ragazzo di 18 anni che sarà denunciato per la donna invece sette giorni di prognosi parliamo di un incidente di un pirata che è stato identificato sabato mattina alle 6 e 30 lungo la strada statale di tramondolfo e marotta che ha investito una donna ed è poi fuggito si tratta di un giovane della provincia di ancona sulla fusione aset marca multiservizi siamo di nuovo sul resto del carlino si divide l'assemblea dei soci nove sindaci scrivono a seri per tenere il caso aperto quattro primi cittadini si arrabbiano tra questi c'è anche enrico rossi che ha preso una dura posizione sul caso appunto fusione aset marche multiservizi che dunque spacca di fatto l'assemblea dei sindaci soci dell'azienda fanese ora l'ultimo saluto in provincia di macerata a paolo mercuri gli esami medico legali hanno escluso dubbi sulla morte dell'allenatore papà di 44 anni il funerale sarà oggi alle 16 e 30 nella chiesa di san francisco amorvalle è stato un allenatore scoutman padre di due figli è morto venerdì scorso a 44 anni in un incidente con la sua moto e via vai di amici alla camera ardente a monte cosoro il cordoglio anche della società lube e della lega volley italiana a senigallia invece si scatena una lite s os sul lungomare in spiaggia il falò proibito di 11 ragazzi controlli a tappeto dei carabinieri un ventenne alticcio alla guida danneggia anche due auto parcheggiate insomma la situazione senigallia continua a essere molto incandescente poi l'allarme va in fuga contro mano e provoca un incidente un ubriaco al volante viene inseguito dalla polizia dopo lo scontro il ritiro per lui della patente e ovviamente la denuncia chiudiamo con la pagina del corriere adriatico perché si accende una piccola piccola fiammella una piccola speranza per il fano così come si evince dal titolo di oggi riammissione in c legata alla casertana mercoledì il pronunciamento della covisocci e sui ricorsi e c'è come scrive massimiliano barbadoro questa mattina sul giornale c'è una flebile speranza e con questo noi chiudiamo qui la nostra rassegna noi ci vediamo stasera alle 20 e 30 con occhio alla notizia il telegiornale arrivederci ciao 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 ciao